Benvenuti nel futuro della gestione Ecosmart, il software per hotel e bnb. Il cliente può utilizzare il codice ricevuto per accedere alla camera in modo semplice e sicuro. Con Ecosmart il gestore può aprire le camere da remoto offrendo flessibilità e comodità. Il cliente può anche utilizzare la card RFID per accedere alla camera. Ecosmart offre una gestione degli accessi sicura, conveniente e flessibile. Scopri di più sul nostro sito.